Grave incidente oggi mercoledì 3 gennaio, poco dopo le 15.30 in via Roma a Pratiglione, un mezzo pesante condotto da un 33enne di Parascorsano uscito di strada sfondando il guardrail e precipitando sulla strada sottostante. La motrice è impattato a terra mentre il rimorchio è rimasto appeso in verticale a ridosso del muro. Sul posto sono intervenuti la Croce Bianca del Canavese, i Vigili del Fuoco di Rivarolo, l'Eli Soccorso del 118, i Carabinieri della Radiomobile di Ivrea, gli agenti di Polizia Locale e i Carabinieri di Rivarolo Canavese. L'uomo, subito a soccorso, è stato elitrasportato all'ospedale CTO. Non pare essere in pericolo di vita. Fortunatamente il braccio della gru che si trovava sopra il camion ha attutito l'impatto della cabina con l'asfalto. La dinamica dell'incidente è al Valle dei Carabinieri. Grazie a tutti. Grazie a tutti.